I regenti fatti di cronaca consumatisi in provincia di Salerno riaccendono l'attenzione sulle morti bianche. Il presidente della regione Campania parla di terrorismo da parte delle aziende che per ragioni incomprensibili risparmiano sui sistemi di sicurezza. Qui ci deve essere francamente una svolta culturale da una parte e dall'altra parte ci deve essere un controllo più rigoroso perché i cantieri, le fabbriche non sicure rappresentano fra l'altro una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori corretti che ovviamente hanno costi maggiori. Quindi dobbiamo per un verso approfondire la cultura del lavoro, del rispetto per quelli che lavorano, per un altro verso dobbiamo combattere la pirateria che c'è in qualche settore industriale che danneggia gli imprenditori corretti in primo luogo oltre che determinare problemi drammatici per la salute, perfino la vita dei lavoratori. Aspetto sul quale la regione può poco, ma sul quale il governo centrale dovrebbe essere, nelle parole di De Luca, più attivo. La regione sinceramente no, bisogna avere interventi da parte dello Stato, da parte delle forze di polizia che devono controllare, dell'INAIL. Noi possiamo intervenire quando abbiamo problemi che attengono alla salute, alla parte sanitaria, ma ovviamente il controllo sulle impalcature, sui cantieri, sui mezzi utilizzati per fare opere, questa è competenza dello Stato.